Gian Lorenzo Bernini è stato uno scultore, architetto, urbanista, pittore, scenografo e commediografo italiano ed è considerato il massimo protagonista della cultura barocca. Per quanto riguarda il suo stile ci possiamo soffermare su due aspetti. Il primo è la scultura. La scultura di Bernini si contraddistingue per il virtuosismo realistico ed erotico delle sue figure conferendo un calore al marmo molto rilevante e anche un'accuratezza e una corporeità ai corpi. Lo scultore sceglieva di rappresentare le scene nel loro momento più drammatico e patetico in questo modo restituiva un forte effetto teratrale e anche un forte impatto emotivo. Possiamo vedere qui a sinistra Apollo e Daphne del 1625 e a destra Enea Anchisi Ascanio del 1619. Qui invece abbiamo il ratto di Proserpina del 1622 dove possiamo proprio vedere la drammaticità nel volto ma anche appunto il realismo e la corporeità dei corpi data dal marmo. Il secondo aspetto è quello dell'architettura. Lo scopo dell'architettura di Bernini era quella di infondere un effetto teatrale e scenografico e per questo Bernini adottò l'uso del chiaroscuro, del gioco tra volumi pieni e vuoti, dell'uso di superfici corvilinee, trasmettendo così dinamicità e leggerezza e il risultato, come possiamo vedere in questa foto, era un'incredibile armonia visiva e strutturale. Qui abbiamo la fontana dei quattro fiumi di piazza Navona, mentre in queste immagini a sinistra abbiamo il baldacchino di San Pietro e a destra la cappella Cornaro.